Il Comando di Liberazione si era organizzato anche da qualche tempo prima che arrivassero a Perugia gli alleati. Infatti era già stato precostituito un minimo di organizzazione che si occupasse dell'immediato ripristino degli impianti di energia elettrica dell'acquedotto. Io ricordo per esempio che l'ingegnere Alimenti, che era un democrazio cristiano, che fu il primo segretario provinciale del partito e per le sue specifiche competenze fu incaricato da una commissione che aveva come compito di vigilare sull'acquedotto e quando questo fosse stato danneggiato dal passato del fronte provvedere immediatamente al suo ripristino. Ma ci furono anche altre commissioni, altri organismi, come diremo con termini di oggi, se non istituzionalizzati di fatto attraverso i quali il CLN aveva già pensato. Il CLN poi naturalmente si trova dinanzi ad altri problemi, per esempio il problema dell'epurazione, cioè andare ad eliminare da tutti gli enti pubblici, da tutte le cariche pubbliche, i residui del fascismo. Farlo con oculatezza, farlo con giustizia, cercare di impedire che saltassero all'aria gli stracci e rimanessero per esempio sempre a galla i capi e i responsabili. Si trovò dinanzi al problema dei prezzi, lo sbilancio immediato che ci fu dal passaggio dall'occupazione tedesca al governo militare alleato, proprio nei valori di mercato, nei valori della moneta. Quindi praticamente la gente che da una parte non lavorava e dall'altra doveva vivere, quindi contenimento dei prezzi, funzione direi di polizia non aria, che era una cosa certissima. Oggi naturalmente parlare ai giovani di oggi di queste cose pare quasi dire qualcosa che non riescono a capire perché c'è tutto, ma allora era un problema di farina, di zucchero, di scatolame, di carne vegetale, inglesi che arrivavano o non arrivavano. Oppure tramite la pontificia opera di assistenza, mangiare le stesse cose che mangiavano le truppe, però il guaio era averle a disposizione mentre le truppe le avevano e i civili no. Quindi provvedere, quindi addirittura spingersi magari fino a Terni perché a Terni c'era un grosso carico di vivere alleati che a Perugia non riusciva a venire. Ecco, tutte queste cose il Comitato di Liberazione provvide. Oltre naturalmente anche a un'opera di vigilanza, il Comitato di Perugia si dette e veste di Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale e quindi come tale sovintendeva anche la ripresa politica di tutta la provincia e naturalmente teneva collegamenti con i sindaci che qua e là erano stati insediati dagli alleati e con le loro giunte che erano state composte con membri di tutti i partiti rappresentati nei CLN. Ecco, sostanzialmente il Comitato di Liberazione svolse una vera e propria opera di governo. Il Comitato di Liberazione Nazionale a Perugia, come peraltro anche nelle altre città, fu organo di governo, vero e proprio, perché al momento in cui le truppe alleate cacciarono gli occupanti nazisti. Perché è vero che esisteva un governo militare alleato, ma è vero anche che questo governo militare alleato, prima di tutto, si trovò a dover insediare prefetti, sindaci, scelti tra gli italiani su indicazione del CLN, su designazione nell'ambito CLN dei partiti antifascisti, ma soprattutto perché per un fatto spontaneo, naturale, che la storia della resistenza ci illustra essere vero, soprattutto da qui andando in su, sentiva come suo punto di riferimento la gente, come autorità legittima il Comitato di Liberazione Nazionale. Cioè, questo Comitato di Liberazione Nazionale agiva proprio, non soltanto per delega del governo militare alleato, ma agiva proprio come espressione, per quanto non elettiva, perché le elezioni non c'erano state, ma come espressione reale della popolazione. E in questo quadro, naturalmente, il Comitato di Liberazione Nazionale si fece carico, anche della prima ricostruzione. Cioè, c'erano gli acquedotti da ripristinare, l'energia elettrica da erogare di nuovo, cioè gli impianti danneggiati, fatti saltare in aria, danniati dalla guerra che era passata palmo a palmo su un altro terreno. C'era da provvedere alle prime esigenze di vita della popolazione dal punto di vista delle medicine come dal punto di vista dei viveri. Ecco, sotto questo profilo il Comitato di Liberazione si era organizzato anche da qualche tempo prima che arrivassero a Perugia gli alleati. Perciò, appena subito è avvenuto questo, i partigiani comuni siamo stati utilizzati come esponenti politici a lavorare per il partito, per il sindacato, per le cooperative e un gruppo numeroso, fu subito dei partigiani utilizzato dalla SEPRAL, che era l'organizzazione dell'ammasso degli alimentari, per fare gli ispettori controllori nel periodo della trebbiatura, appunto sulle trebbie per evitare che il grano l'avessero nascosto, l'avessero portato all'ammasso. Poi è proseguito con la vendemmia e in particolare con la raccolta dell'olive. Questo è stato uno dei primi compiti svolti dai partigiani, fu molto importante. Ritengo che è molto importante a Terno, dove in realtà non c'era in mezzo all'antifascismo un intellettuale, ma nemmeno, diciamo, non intellettuale soltanto come grosso uomo di cultura, ma nemmeno un laureato, no? Perciò tutta quanta l'opera è stata opera degli operai a Terni e anche la riorganizzazione, perché mentre a Perugia ci risulta che praticamente i primi giorni hanno preso in mano i liberali, no, perciò la borghesia perugina, no, a Terni questo non è avvenuto, perché a Terni è stato costituito l'aggiunta comunale di tutti quanti i operai, no? È stato costituito, organizzato immediatamente la Camera del Lavoro, sono organizzate le cooperative, sono organizzato tutto, perfino il prefetto, insomma, a Terni nominato al Comune di Liberazione era uno che in quel momento si è scritto alla Università Cristiana, un cattolico, era un impiegato comunale, laureato in legge, che fu nominato, designato al Comune di Liberazione e lo nominarono prefetto, ecco, perciò si togono fuori qualcuno, qualche avvocato socialista che per 15 anni magari era rimasto accantonato, è stato utilizzato, uno è stato fatto preside della provincia, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.